Musica Ero su prima che i vostri figli, una parte dei vostri figli, che era sesto anno, che stavano cenando e ci hanno messo giusto quegli otto secondi a cenare, poi erano già di corsa dappertutto a gridare, a rincorrersi come normale che sia e mentre guardavo la loro frizzantezza, che a volte è anche un po' caotica però è frizzante, è bello che sia così e quindi mi domandavo, magari a volte mi tiro un po' di paranoia, però era una domanda che mi sono fatto questi ragazzi sono tutti diversi tra loro, però hanno tutti lo stesso bisogno di essere amati e tutti cercano la stessa cosa, anche se in modo diverso, a volte consapevole, a volte inconsapevole, cercano di essere felici e mi domandavo come farà lo spirito a parlare a questi ragazzi, visto che ognuno ha il suo linguaggio poi per me sono detto è un problema suo e io ne ho già i miei quindi si arrangerà poi lui a fare quello che deve fare però è una cosa interessante, a riflettere sul fatto che ognuno di noi è unico e irripetibile, è un universo quando parlo alle persone cerco sempre di medesimarmi in chi ho davanti, però è impossibile pensare di intercettare le corde di tutti c'è un modo che un po' però le accomuna queste intenzioni, cioè di provare a sintonizzarci che è di far leva su ciò che per noi è più importante, ossia i legami con le persone che abbiamo accanto che sono quelli che restano e che non vorremmo che mai andassero perduti io auguro a questi ragazzi, ma anche quelli del settimo anno ci mancherebbe altro a tutti di trovare la loro forma di linguaggio per sentirsi felici, per realizzarsi, per avere da Dio le indicazioni per vivere al meglio la loro vita è un po' quello che auguriamo a tutti, ma in particolar modo a loro visto che si mettono in ascolto di questo spirito che riceveranno nel dono del sacramento della confermazione e se penso anche al settimo anno che hanno appena ricevuti stasera Giuseppe ci parlerà di unità e pluralismo, che sono due argomenti, due temi che penso ci faccia bene approfondire anche per il fatto che i nostri ragazzi non da adesso, ma già da qualche tempo, sono chiamati a interloquire con una pluralità di interlocutori siano essi singoli o gruppi di persone o ideologie o movimenti di pensiero e quindi siamo chiamati e sono chiamati anche loro a strutturarsi a farsi un po' la loro cultura, le loro idee, avere un modo di vedere la vita per cui secondo me se ci aiutiamo a far sì che il volume alto dei messaggi che arriva costantemente all'orecchia dei nostri figli ma anche ai nostri possa essere decifrato e possa essere decodificato credo che faremmo un regalo a loro e quindi se ci aiutassimo, aiutassimo anche loro a capire e a scorgere questa voce dello Spirito penso che sarebbe il più bel regalo che potremmo fare loro allora adesso mettiamoci in ascolto anche noi di questo Spirito chiediamogli che venga a benedire il nostro incontro e che ci dia la grazia di essere attenti gli uni agli altri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti rendici docili alla tua volontà capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen come ricordo Giuseppe è la seconda volta che è con noi ce ne sarà anche una terza e quindi stasera diamogli spazio con questo argomento unità e pluralismo Buonasera a tutti io torno molto volentieri tra voi la volta scorsa siamo anche riusciti ad avere un momento di confronto alla fine che per me è molto importante perché quando faccio queste cose le faccio sperando che sia possibile fare una proposta ma puoi avere anche qualche riscontro sulla proposta quindi ringrazio molto Don Davide che mi dà questa opportunità e voi per l'attenzione che porterete io parlerò come la volta scorsa per non più di mezz'ora e dopo spero che sia possibile appunto condividere qualche demo tale che me ne possa tornare a casa con qualche spunto in più e direi che Don Davide ci ha già introdotto nel tema della serata offrendoci due spunti che vorrei riprendere immediatamente primo spunto quando si parla del rapporto tra unità e pluralismo cioè tra unità e varietà tra unità e molteplicità penso che sia importante da parte nostra non raccogliere semplicemente il dato di difficoltà perché è chiaro che mettere insieme l'unità e la varietà comporta qualche problema ma anzitutto considerare la meraviglia che suscita constatare che siamo così diversi ma siamo anche capaci di incontrarci come dicevo un attimo fa Don Davide della seconda idea sua che vorrei riprendere è vero che ognuno di noi è un universo provate a pensare nessuno di noi ha alle spalle la stessa esperienza di qualcun altro quindi siamo veramente unici ora il fatto che questa unicità non sia un impedimento per costruire qualcosa è veramente sorprendente e penso che sia importante che noi ci lasciamo sorprendere da questo perché questo ci può motivare ad affrontare anche le difficoltà e le fatiche che si generano ogni volta che si cerca di mettere insieme ciò che è diverso vorrei fare poi un'altra considerazione che riguarda la natura del percorso che vi conduce qui che ci conduce qui stasera è il percorso della iniziazione cristiana nel senso che voi avete chiesto che i vostri figli siano introdotti nella fede cattolica ora non so se ci avete mai fatto caso ma la chiesa si identifica come una comunione cioè come una comunità dove sta la differenza tra la parola comunità e la parola unità che non sono sinonime perché se le usiamo vuol dire che indicano qualcosa di diverso allora la parola comunità non si limita come la parola unità a restituire appunto ciò che accomuna ma afferma anche la differenza c'è comunità ogni volta che c'è contemporaneamente l'unità e la distinzione allora veramente la chiesa è l'immagine vivente di come questa meraviglia del mettersi insieme tra diversi possa prendere forma e quando dico questo e con questo termine alla premessa non mi riferisco al fatto che noi siamo qui diversi uomini, donne, giovani, anziani con idee differenti sul piano politico ideologico eccetera magari anche potremmo avere diverse provenienze etniche eccetera eccetera l'elemento che anzitutto sorprende della comunità ecclesiale è che è il luogo in cui si incontrano gli esseri umani con Dio allora è chiaro che il Dio cristiano si è reso prossimo a noi e noi tra qualche giorno celebreremo la festa del Natale che è appunto la festa che ricorda come questo Dio ha preso forma umana e tra tutte le forme umane ha scelto quella più inerme che è il neonato però è anche vero che questo Dio rimane Dio voi ricorderete i tre doni che portano i magi oro, incenso e mirra e beh questi tre doni vanno a identificare l'originalità di questo bambino e quindi sappiamo che la mirra che rimanda alla cura del cadavere anticipa già che questo bambino andrà incontro alla morte l'incenso che parla del culto ci dice che andrà oltre questa esperienza di morte ma l'oro ci dice che è Dio se avete presente le immagini bizantine hanno sempre lo sfondo dorato quando dipingono la divinità perché l'oro in quanto non si corrompe almeno diciamo nella sensibilità comune tra tutti gli elementi mondani sembra quello che più assomiglia all'eternità questo vuol dire che veramente il primo elemento che ci deve sorprendere è che questo Dio abbia voluto scendere tra di noi e ci abbia chiamato a condividere la sua vita prima Don Davide parlava dello spirito e lo spirito che cos'è? e noi sappiamo che il mistero di Dio che crediamo è Trinità quindi c'è Dio Padre che è il creatore il figlio che è colui che della Trinità è venuto nel mondo per redimerci ma poi è risorto ed è tornato al Padre chi è rimasto da noi? è rimasto lo Spirito Santo quindi siamo dentro una situazione dove comunque l'umano e il divino si incontrano ecco penso che è importante che noi avviciniamo questo mistero con la meraviglia la meraviglia che provò Mosè quando incrociò il rovetto ardente non perché questo basti perché non è che la meraviglia rende tutto chiaro ma perché la meraviglia motiva a non prendere le scorciatoie e come lui si è fermato e ha cercato di sfruttare in questo mistero così anche noi dobbiamo cercare di sfruttare in questo mistero tanto più che abbiamo chiesto che i nostri figli vengano introdotti e quindi i nostri figli guardano noi e quindi guardano a quanto possa risultare per noi importante quello che tutti gli dicono che è importante allora detto questo direi ci introduciamo mettiamo nel tema della serata unità e pluralità vorrei farlo con voi leggendo anzitutto un passaggio del dialogo che il Papa ha tenuto con i preti e i religiosi milanesi durante l'ultima visita a Milano perché mi sembra che sia un passaggio che nella sua come dire forte comunicativa quest'uomo senz'altro un uomo che non ha problemi a comunicare trasmette degli spunti importanti e poi tre rapide riflessioni leggiamo insieme il testo quante volte abbiamo confuso unità con uniformità e non è lo stesso o quante volte abbiamo confuso pluralità con pluralismo e non è lo stesso l'uniformità e il pluralismo non sono dello spirito buono non vengono dello spirito santo la pluralità e l'unità invece vengono dello spirito santo in entrambi i casi ciò che si cerca di fare cioè nella modalità sbagliata quella che lui identifica come uniformità e pluralismo è ridurre la tensione e cancellare il conflitto o l'ambivalenza cioè l'ambiguità a cui siamo sottoposti in quanto esseri umani cercare di eliminare uno dei polli della tensione è eliminare il modo in cui Dio ha voluto rivelarsi nell'umanità del suo figlio tutto ciò che non assume il dramma umano può essere una teoria molto chiara e distinta ma non è coerente con la rivelazione ed è perciò ideologica cioè qualcosa di artificiale la fede o meglio di artificioso la fede per essere cristiana e non illusoria deve configurarsi all'interno di processi dei processi umani senza ridursi ad essi anche questo è una bella tensione è il compito bello ed esigente che ci ha lasciato nostro Signore il già e il non ancora perché Cristo è venuto è già venuto ma non è ancora venuto in maniera definitiva perché noi crediamo che verrà alla fine dei tempi il già e non ancora della salvezza e questo è molto importante unità nelle differenze questa è una tensione ma è una tensione che sempre ci fa crescere nella Chiesa quella è la parola che ritorna di più in queste righe è la parola tensione ora quando noi pensiamo alla tensione pensiamo a qualcosa che ci stanca probabilmente soprattutto se pensiamo alla tensione con i figli ma in generale ci rendiamo conto che tutto ciò che è vivo è in tensione e quindi dobbiamo riconciliarci in qualche maniera con la tensione cogliere che la vita domanda tensione e tensione vuol dire contemporaneamente riconoscere qualcosa che accomuna ma anche riconoscere qualcosa che distingue e divide ed ecco loro i tre passaggi che vorrei fare con voi primo passaggio mettiamo fuoco quest'idea della pluralità quindi della tensione buona come unità nelle differenze da dove possiamo partire forse per cercare di dare un criterio che ci guidi poi concretamente a vivere questa cosa vedremo tra un attimo nella coppia con i figli eccetera forse considerando che l'essere umano è strutturalmente comunicativo allora a me sembra che questa cosa sia in effetti evidente e quando ci accorgiamo noi che l'essere umano è strutturalmente comunicativo quando tra le altre situazioni ne scelgo una che per la sua diciamo pesantezza credo possa tornare evidente quando noi abbiamo un problema e cerchiamo qualcuno con cui parlarne non perché sia capace di risolvercelo ma perché per noi è già importante trovare qualcuno che condivida con noi questo problema penso che sia un'esperienza che tutti prima o poi facciamo non è che noi andiamo da tizio perché siamo sicuri che tizio ci risolverà il problema andiamo da tizio perché abbiamo fiducia nel fatto che tizio potrà condividere con noi questa cosa poi se ci aiuta a risolverlo meglio ma non è questo l'elemento che ci spinge ad andare da uno piuttosto che dall'altro allora vuol dire che l'essere umano è strutturalmente comunicativo ma che cosa vuol dire comunicare comunicare vuol dire scambiarsi un dono la parola comunicazione deriva dalla parola latina munus munus vuol dire dono quindi la comunicazione è lo scambio dei doni e che cosa comporta lo scambio dei doni comporta la tensione che dice il Papa comporta che c'è sempre qualcosa di simile e qualcosa di diverso ogni volta che noi pratichiamo uno scambio c'è qualcosa di simile perché perché noi ci intendiamo su questo scambio noi condividiamo questo gesto ma c'è anche qualcosa di diverso perché quello che viene scambiato non è la stessa cosa allora dentro la logica del dono c'è proprio questo di grande contemporaneamente si afferma l'uguaglianza e la differenza ed è interessante notare infatti c'è l'antropologia culturale che è la scienza che studia la cultura che in tutte le civiltà il dono è sempre esistito cioè il dono è una delle espressioni che ritorna continuamente dentro la vita degli esseri umani e il dono dice questo dice il fatto che noi possiamo condividere qualcosa nella nostra diversità ed ecco allora tre passaggi che credo ci fanno cogliere immediatamente la grandezza di questo e anche la sua difficoltà prima situazione tensionale è la situazione della coppia tutti coloro che vivono l'esperienza di coppia sanno perfettamente che un'esperienza tensionale d'altronde io penso che se c'è una cosa stupefacente è che un uomo le capiscono le pensano le desiderano le fanno le sentono e le valutano in maniera radicalmente diversa ora che noi riusciamo nonostante questo a metterci insieme è veramente sorprendente e penso che sia importante che noi ci lasciamo sorprendere da questo perché? perché questa sorpresa che ci può motivare a sostenere il momento della fatica che tutti pure conosciamo allora è interessante notare che oggi negli studi non si parla più di resistenza ma si parla di resilienza dove sta la differenza tra la resistenza e la resilienza? sta in questo resistere vuol dire respingere questo cosa vuol dire? vuol dire che quando noi respingiamo la situazione difficile ci riusciamo fino a un certo punto perché? perché se questa situazione raggiunge una capacità di fare pressione di spingere di premere più forte di quello che noi riusciamo a contrapporle cediamo ecco perché ci si rende conto che la resistenza è fragile e in ultima analisi non rappresenta una strategia affidabile allora si dice bisogna essere resilienti e cosa vuol dire essere resilienti? essere resilienti vuol dire che quando incrociamo la difficoltà non ci limitiamo a respingerla che è normale perché nessuno va incontro alla difficoltà senza riconoscerla come tale quindi viene istintivo respingerla ma accanto a questo istintivo rifiuto noi accettiamo di passare attraverso la difficoltà e passando attraverso la difficoltà ne cogliamo l'opportunità della trasformazione in fin dei conti se ci pensate è quello che è sempre accaduto alla vita di ognuno di noi quando ognuno di noi ha accettato di imparare dai suoi errori è vero o no che le cose più importanti le abbiamo capite sbagliando ma imparare dagli errori vuol dire precisamente non respingere l'errore farci conti quindi passarci attraverso ora non voglio inoltrarmi in questa direzione ma sarebbe interessante farlo perché come genitori oggi credo che abbiamo un problema grosso accanto ad altri evidentemente che è questo abbiamo paura degli errori che possono commettere i nostri figli e quindi rischiamo di adottare strategie che impediscano l'errore vi faccio un esempio chi vuole il registro elettronico nelle scuole ma sono le famiglie che lo vogliono perché le famiglie vogliono il registro elettronico nelle scuole perché avendo paura di quello che possono fare i loro figli ritengono in questa maniera di poter impedire ai figli di agire male e non è un ragionamento sbagliato ma c'è un problema di fondo se i nostri figli si abitueranno ad agire bene tra virgolette soltanto perché sanno che non appena sbagliano e commettono qualcosa di sbagliato vengono immediatamente presi non appena verrà meno questo controllo deraglieranno sicuramente perché non avranno maturato la convinzione che devono agire bene perché lo devono a loro stessi a loro stessi ma avranno maturato la convinzione molto più miserabile che devono agire bene soltanto perché se no vengono scoperti e vengono puniti capite cosa voglio dire allora dobbiamo maturare la capacità di vigilare ovviamente senza impedire che vengano commessi piccoli errori perché l'alternativa non è tra il commettere gli errori o il non commetterli se uno non commetterà mai errori non imparerà niente voi sapete che una delle tipologie problematiche nella scuola paradossalmente è la tipologia dei cosiddetti superdotati perché perché quelli che non fanno mai fatica a studiare crescono fragilissimi in quanto non appena incroceranno il problema e nella vita è difficile che prima non si incroci il problema questi non sono attrezzati per fare i conti con il loro fallimento perché non l'ha mai conosciuto prima mentre coloro che hanno fatto i conti con piccoli fallimenti e beh da questi hanno imparato che nella vita può anche capitare e quando capita uno deve cercare di rialzarsi allora mi viene in mente un testo di 2500 anni fa greco che fa l'elogio del medico che sbaglia poco perché dice trovare la perfezione è raro e questa considerazione è ironica naturalmente allora anche noi dobbiamo fare in modo che i nostri figli possano commettere errori possibilmente piccoli perché dal piccolo errore è possibile ricavare una lezione che può essere anche grande senza implicare conseguenze devastanti quindi noi facciamo i conti già a questo livello e sono passato quindi dal discorso della coppia e quello del rapporto con i figli con questa tensione profonda tra l'uguaglianza e la differenza e arrivo al terzo fronte che è quello della società noi siamo in un mondo che è sempre più conflittuale e questo lo si capisce perché è un mondo sempre più conflittuale perché si litiga quando le vacche sono magre non quando le vacche sono grasse e quando le vacche sono grasse ce n'è da tagliare per tutti e quando comincia a mancare la trippa che si litiga ed è quello che sta capitando noi stiamo entrando in un mondo dove le vacche saranno sicuramente più magre di quello che ci eravamo abituati negli ultimi 30 anni e quindi questo questo problema sicuramente ce lo dà anche qui però nella società o noi riusciamo a identificare qualcosa di comune e allora potremo anche dovremo anzi esprimere le differenze senza che questo comporti la dissoluzione societaria ma se non si riconosce più niente di comune il rischio è che il sistema salti e se il sistema salta a quel punto può cadere di tutto quindi mi sembra che il riferimento che ci dice il Papa ossia che bisogna vivere nella tensione e quindi praticando una pluralità che vuol dire contemporaneamente unità e differenza è una formidabile lezione di vita rispetto alla quale termino con un ultimo pensiero e poi andiamo avanti che è questo che cosa nella coppia ma soprattutto nel rapporto con i figli e mi riferisco in particolare a questo rapporto perché credo che sia il rapporto più forte che l'essere umano può vivere noi sappiamo che il rapporto di coppia può anche andare incontro alla dissoluzione ma quale rapporto non va incontro se non per motivi gravissimi nella dissoluzione è il rapporto col figlio io potrei divorziare con mia moglie sicuramente ma certamente non divorzierei mai con i miei figli e penso che tutti qua dentro la pensiamo così che cosa porta a prendere una posizione così forte nonostante sappiamo quanto possa essere pesante il rapporto con i figli perché parliamoci chiaro viene il momento in cui non ne possiamo più credo di non svelare nulla di arcano dico bene ecco ma è l'amore l'amore è la grande rete avete presente quando siamo andati a vedere qualche esibizione al circo degli acrobati l'amore è la rete è la rete che trattiene anche quando per le ragioni più diverse si precipita l'esempio dei figli secondo me è il più forte perché l'amore per il figlio è semplicemente inestimuibile nella vita di coppia è un esempio molto forte ma non così forte perché sappiamo che la vita di coppia può tragicamente andare incontro anche alla sua dissoluzione nella vita societaria questo vale ancora di più perché è ancora più facile che nella vita societaria ci sia la disgregazione perché non c'è un vincolo così stretto come nel rapporto coniugale nel quale condividiamo niente meno che i corpi quindi più forte di così è difficile immaginare un vincolo ma comunque anche la società sta in piedi quando quando c'è un legame tra le parti allora penso che potremmo concludere questo passaggio osservando che il grande e forte richiamo che ci viene dall'idea di pluralità come ce ne parla il Papa è di non dimenticarci mai di quello che ci unisce oltre le nostre differenze magari in altre epoche era più importante ricordare che cosa ci distingueva perché sapete il mondo perfetto non esiste e la storia umana è una continua oscillazione da un capo all'altro quindi in altre epoche probabilmente era più importante sottolineare le differenze la mia impressione è che oggi invece si è più importante richiamare dentro la dinamica comunitaria ciò che ci tiene insieme perché rischiamo di dimenticarcene a livello societario è evidente nella coppia sta diventando un problema con i figli non ci siamo ancora perché il legame è fortissimo e penso che sia forse l'elemento che ci spinge continuamente a rimotivarci e veniamo al secondo punto perché voi state chiedendo alla Chiesa che introduchi i vostri figli nella fede allora qua si tratta a questo punto di considerare qual è il valore aggiunto che cosa può arrivare a questa sfida di riuscire a stare insieme come diversi dall'appartenenza alla Chiesa perché vedete noi sappiamo e la storia ce lo dice che i credenti hanno preso anche decisioni sbagliate sappiamo che la Chiesa ha preso anche decisioni storiche che hanno avuto conseguenze negative in certe congiunture cos'è avvenuto e lo sappiamo perfettamente che la Chiesa stessa si è lasciata corrompere dal potere o dalla violenza non è casuale che Papa Voitila che certamente non era un uomo fragile non ha temuto nel 2000 nell'anno santo di celebrare quell'evento pubblico in cui la Chiesa ha chiesto e offerto perdono chiesto e offerto perdono allora è importante che noi ci chiediamo dove sta l'elemento originale che la Chiesa può dare a noi e ai nostri figli con lo scopo di affrontare la vita a me pare che sia impressionante notare come la Chiesa che è una comunione ecco perché all'inizio ho preso spunto da quella parola ci attesta in maniera formidabile l'unità nella varietà provate a pensare alla nostra Chiesa abbiamo un Papa di origini remote italiane ma che è argentino prima c'era un tedesco prima ancora un polacco provate a pensare sul piano sociale i Papi del XX secolo che estrazioni hanno avuto un principe Pacelli ancorché di nobiltà recente a cui è succeduto un contadino Roncalli certamente i suoi di Roncalli potevano essere i fittavoli dei parenti di Pacelli Papa l'uno Papa l'altro e poi è arrivato Giovanni Paolo e poi è arrivato Paolo VI questo Rampollo di una famiglia alto borghese e poi chi è arrivato Giovanni Paolo I figlio di un socialista probabilmente nemmeno credente e poi è arrivato Giovanni Paolo II e poi è arrivato Ratzinger entrambi figli di militari e poi è arrivato questo che è figlio di migranti e mi pare incrociando i fedeli a Cagliari o comunque in Stradegna ha ricordato quando i suoi rimasero con niente che è la tipica esperienza che spinge uno a migrare perché se uno sta bene a casa sua non va a migrare evidentemente questo lo capiscono anche i sassi allora è chiaro che noi facciamo i conti con una situazione veramente impressionante come persone così diverse per estrazione sociale per cultura per per hanno potuto riconoscersi appartenenti a una chiesa ebbene credo che questo possa alimentare in noi la fiducia che in effetti c'è una regia dall'alto ed è la regia dello spirito a cui faceva riferimento Don Davide giustamente dicendo ci penserà lui a intervenire perché certamente le cose le può combinare molto meglio di quanto possiamo fare noi ma credo che sia importante che noi come Mosè davanti al rovetto ci fermiamo e ci meravigliamo perché siamo troppo abituati a passare soprattutto e a non cogliere quello che ci viene offerto e quello che ci viene offerto è grande e il sacramento i sacramenti che vengono offerti ai vostri figli sono grandissimi perché parliamoci chiaro o sono una messa in scena e allora sono una pagliacciata questa è la vera parola per qualificarla oppure se sono veramente quello che noi diciamo che sono sono la partecipazione alla vita di Dio in questo senso qualcosa veramente di gigantesco allora credo che sia importante che noi non per misconoscere i peccati dei cristiani che li ha riconosciuti anche il Papa ma per riconoscere che cosa la grazia che rende la Chiesa santa nonostante i peccati dei cristiani noi ci lasciamo sorprendere da questa entità a cui apparteniamo come credenti che è unica e plurale ecco i molti riti nella quale ci sono ruoli diversi nella santa messa il sacrificio per chi ho offerto per il clero e il popolo noi tutti siamo popolo e lui è clero ma questo cosa vuol dire? non vuol dire che lui è nostro padrone pur avendo un ruolo di tipo pastorale e quindi il prete per noi cattolici è una guida in quanto lui come noi è figlio noi tutti siamo figli di Dio e in ragione di questa comune condizione di figli siamo chiamati evidentemente a non farci le scarpe gli uni con gli altri come si dice volgramente allora è importante che noi cogliamo quindi che i diversi ruoli come dice Paolo e lo dice agli inizi del cristianesimo facendo i conti con comunità risose questo perché ci rendiamo conto che non è mai stato facile per nessuno essere cristiano evidentemente esistono per il bene comune e sempre nella Santa Messa Domenicale dopo le offerte cosa diciamo noi che queste offerte vengono presentate e ci rivolgiamo a Dio Padre per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa noi siamo la Chiesa ma la Chiesa non è nostra la Chiesa è di Gesù Cristo e quindi è importante che ci rendiamo conto a questo punto che per questa nostra comune ordinazione a Cristo che ha dato la vita per la Chiesa noi siamo coinvolti ciascuno a fare la sua parte dentro una unità viva cioè dinamica rispetto alla quale però se non c'è una partecipazione effettiva non c'è nemmeno il dinamismo ecco perché è fondamentale che a partire non al di là a partire dalle nostre esperienze quello che ciascuno di noi ha fatto negli anni precedenti fino a un attimo fa noi ci lasciamo provocare dal fatto che i nostri figli vengono introdotti nella pratica sacramentale a nostra volta a lasciarci introdurre che è l'offerta che ci fa la nostra Diocesi quando appunto coinvolge i genitori nel percorso di iniziazione cristiana dei figli e arrivo all'ultimo passaggio ancora 5 minuti perché mi sembra che ci siano alcuni elementi che vanno messi a fuoco in quanto la mia impressione è questa però poi mi piacerebbe sentirvi io ho 52 anni e penso che tra di voi ce ne sono molti che hanno un'età simile alla mia penso che noi siamo la generazione che è cresciuta più garantita della storia noi abbiamo fatto quello che volevamo praticamente è vero o no? perché siamo cresciuti sull'onda del boom economico quindi altri hanno lavorato per noi quando siamo venuti al mondo negli anni 60 le cose stanno già viaggiando bene e dopo abbiamo come dei surfisti cavalcato l'onda certo per carità avevo fatto qualcosa nella vita saremmo impegnati eccetera però non c'è paragone rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto quanto a lavoro a sacrificio eccetera e ci rendiamo conto che i nostri figli non hanno più l'onda da cavalcare perché sono arrivando alla bassa marea e quindi ci rendiamo conto che stanno entrando in un mondo molto più incerto ma sentite quello che ci hanno detto i telegiornali che la Ryanair ha minacciato quelli che non facevano lo sciopero di non dargli l'aumento mi sembra una roba normale vi sembra una roba normale vuol dire che sta cambiando qualcosa normale rispetto alla prassi acquisita io non do un giudizio di merito specifico io mi confronto con la prassi acquisita questa notizia vent'anni fa nemmeno ci sarebbe transitata lontanamente dal cervello d'accordo? neanche l'avremmo immaginata oggi invece è una notizia data tranquillamente allora vuol dire che la situazione sta cambiando questo vuol dire che dobbiamo metterci in testa che non possiamo dare per acquisita delle cose che in realtà come insegna la storia non sono acquisite sono state conseguite e si possono perdere esattamente come sono state conseguite cioè noi stiamo constatando che il progresso non esiste il progresso è una sovrastruttura ideologica non c'è mai stato la storia dell'umanità ha sempre vissuto di passaggi in avanti e di arretramenti da nessuna parte si è scritto che per forza si va sempre avanti questa è un'illusione che si è espressa negli ultimi 200 anni e che oggi sta andando giustamente a sbattere perché non è realistica allora ci sono quattro concetti con questi concludo con cui penso valga la pena confrontarsi per cogliere quello che c'è in gioco e per cogliere quello che la nostra appartenenza ecclesiale ci può aiutare a maturare per affrontare che cosa? quello che noi preme che possono affrontare i nostri figli cioè la vita primo concetto il confronto qui ho scritto pluralismo intendendo quello che il Papa identifico come pluralità quindi la modalità buona della pluralità cioè l'essere diversi e uniti insieme e totalitarismo dove sta la differenza la differenza sta in questo che il totalitarismo esprime l'uniformità lo dice la parola stessa c'è totalitarismo quando tutto viene risolto e dissolto in un'unica cosa storicamente il novecento è stato dominato i totalitarismi infatti è interessante che un grande pensatore cristiano che si chiamava Maritè negli anni trenta elabora l'idea secondo cui il pluralismo è il contrario del totalitarismo perché identifico una varietà e non un'uniformità secondo concetto il relativismo Papa Benedetto diverse volte ha richiamato a non confondere il pluralismo buono con il relativismo dove sta la differenza sta in questo nel relativismo ogni posizione fa capo solo a se stessa e si ritiene unica quindi rifiuta il confronto con le altre nel pluralismo dato che c'è differenza ma anche uguaglianza si stabilisce un dialogo e guardate che se c'è un soggetto che negli ultimi decenni ha dialogato con tutti è la Chiesa Cattolica io vi sfido a trovare un altro soggetto pubblico che negli ultimi 50 anni abbia dialogato con tutti come la Chiesa Cattolica c'è un'unica categoria con cui la Chiesa Cattolica non ha mai dialogato provate a pensarci è la categoria dei maghi perché la Chiesa non ha mai intavolato nessun dialogo con la magia la magia al 99% è ciarlataneria ma l'1% è molto seria ed è per questo che è pericolosa perché il mago serio non il ciarlatano di cui non ce ne importa nulla ma il mago serio professa che cosa la convinzione che può dominare è l'entità spirituale quindi è l'esatto contrario del credente il credente è colui che riconosce a Dio il potere non a sé ecco perché il devoto cos'è la devozione la devozione è il donarsi ora il mago quando è serio e per questo è pericoloso sul piano religioso esprime l'atteggiamento esattamente contrario ecco perché la Chiesa non ha mai praticato il dialogo con la magia l'ha praticato con gli altri cristiani l'ha praticato con i non cristiani l'ha praticato con i non credenti Papa Benedetto all'ultima edizione della preghiera di Assisi nel 2011 ha invitato anche i non credenti in ricerca per dire come è grande il fronte del dialogo ed è quello che Paolo VI dice nell'Ecclesia a metà concilio che appunto il dialogo va costruito con tutti a partire da quello che è comune e poi quello che è diverso quindi pluralismo sì relativismo no perché il relativismo nega che cosa il fatto che l'essere umano è strutturalmente comunicativo perché tratta l'essere umano come se bastasse a se stesso e questo tutti noi qua sappiamo che è sbagliato perché perché per il fatto che abbiamo messo il mondo dei figli vuol dire che abbiamo chiaro che siamo comunicativi e che non bastiamo noi stessi perché questa è la ragione che ci ha portato a mettere al mondo figli terzo elemento pluralismo e intercultura facciamo i conti con il fenomeno migratorio fenomeno migratorio direi che ormai l'han capito anche le pietre in realtà è un fenomeno di ripopolamento ecco perché a suo breve periodo è semplicemente irreversibile ma è un fenomeno che va governato assolutamente perché nella storia non è mai accaduto che le migrazioni siano avvenute tranquillamente in quanto le migrazioni identificano l'incontro ma anche il possibile scontro il primo che intui il mondo nel quale stavamo entrando si chiamava McLuhan negli anni 60 e parlò del villaggio globale che è un'espressione che ogni tanto torna lui era un teorico dei mass media la cosa interessante è questa quando lui parla del villaggio globale non ne parla come del villaggio turistico che è quello che noi pensiamo fino a qualche anno fa ma dice il villaggio globale per il fatto che si incrementeranno i rapporti tra le culture ma ci sarà anche una formidabile spinta all'uniformazione produrrà formidabili tensioni tribali che è esattamente quello che sta capitando quindi il fenomeno migratorio è certamente un fenomeno problematico ma qual è l'unico modo che abbiamo noi per affrontare questo fenomeno è di riconoscere accanto le differenze ciò che unisce e provate a pensare com'è interculturale la chiesa cattolica quindi anche qui i nostri figli vengono introdotti dentro un mondo al quale non bisogna andare a insegnare che cosa vuol dire incontrare l'altro perché è da sempre che accade questo da quando il più grande immigrato della storia che è Gesù Cristo venendo nel mondo è venuto a incontrare noi terzo elemento il pluralismo e la democrazia che cosa identifica la democrazia il discorso è un po' complicato però vorrei condividere con voi solo un'idea grazie alla democrazia siamo diventati cittadini mentre prima eravamo sudditi dove sta la differenza tra il suddito e il cittadino è molto semplice il suddito ha soltanto doveri il cittadino ha anche diritti provate a pensarci il suddito ha soltanto doveri il cittadino ha anche diritti e noi siamo cittadini perché abbiamo diritti e doveri se non che si sta profilando un problema quale? che continuiamo a rivendicare diritti e non riconosciamo più doveri ma io posso rivendicare un diritto nei vostri confronti soltanto se voi riconoscete un dovere nei miei e viceversa naturalmente perché sto facendo questa considerazione? perché ci rendiamo conto che la democrazia esiste soltanto se si riconosce il bene comune ed è in forza del bene comune che non ci limitiamo a rivendicare soltanto diritti ma riconosciamo anche doveri perché affermiamo che non ci siamo soltanto noi ma c'è anche qualcosa d'altro e qual è il bene comune della democrazia? il bene comune della democrazia è l'essere umano e quindi penso che anche da questo punto di vista introdurre i nostri figli nella fede cristiana dentro la comunità ecclesiale significa introdurli dentro un modo di guardare alla vita che gli fa riconoscere che l'essere umano è come diceva un grande filosofo teologo cattolico Rosmini diritto sussistente e quindi che l'essere umano è il bene in sé nella sua forma materiale e se loro si rendono conto di questo contemporaneamente avranno quindi la motivazione per custodire gli altri ma attenzione anche per custodire loro stessi perché penso che noi di fronte alle pratiche improprie distruttive autodistruttive dei ragazzi di oggi dovremmo a un certo punto chiederci com'è possibile che accada questo e forse una risposta a questa domanda è la seguente perché questi ragazzi non hanno coscienza che devono custodirsi ma allora forse questi ragazzi hanno bisogno di riconoscere il bene che sono e la responsabilità che questo implica di custodirsi ebbene penso che sia difficile immaginare una manifestazione più potente del bene che siamo noi esseri umani del riconoscimento di un Dio che si è fatto uomo per venire a salvarci vuol dire che veramente la nostra vita ha un valore inestimabile perché vale la stessa vita di Dio e a questo punto se si viene introdotto in questo è più probabile che veniamo aiutati a non sprecarla vi ringrazio per l'attenzione come facciamo ogni volta ci prendiamo qualche attimo nel quale possiamo riordinare un po' i pensieri e vedere anche se alcuni suggerimenti che Giuseppe ci ha dato possono essere oggetto del confronto qualche attimo di pausa ok ci prendiamo ancora il tempo necessario ma penso un quarto d'ora quello che può servire per aprire un confronto in questa fase a partire anche da quello che Giuseppe ci ha detto quindi se c'è qualcuno che vuole condividere una propria riflessione o chiedere qualcosa può farlo Corrado eh sì perché l'altro aspettate non riesco a metterlo a posto dobbiamo fare i conti con internet che paradossalmente moltiplica i contatti ma di fatto ci isola ancora di più perché con le chat con esatto contatti virtuali che poi azzerano i contatti veri ma dunque io volentieri raccolgo questo spunto come possiamo noi ecco convivere perché ormai non possiamo eliminare internet ma guardi la ringrazio di questo spunto perché va a intercettare una questione assolutamente reale rispetto alla quale dico due cose la prima cosa è questa è vero è vero che internet rappresenta sicuramente un habitat diverso da quelli con cui eravamo abituati però è vera anche un'altra cosa secondo me che gli habitat sono sempre esistiti cioè le immagini fittizie del mondo sono sempre esistite allora cerchiamo di rimontare con la fantasia ai nostri avi non so due secoli fa probabilmente i nostri avi adesso non so voi che estrazione abbiate io ho un'estrazione molto normale molto popolare probabilmente il mio avo due secoli fa zappava la terra degli altri e l'habitat nel quale viveva cosa gli diceva? beh gli diceva che non era possibile cambiare ecco perché è probabile che andasse ubriacarsi fine settimana sappiamo che era una prassi diffusa no? a voi sembra che ubriacarsi sia un'affermazione assertiva? si va a ubriacare chi ritiene che non si possa fare altro evidentemente quindi vuol dire che anche duecento anni fa anche centocinquanta anni fa eccetera eccetera c'era un habitat qualcosa che avvolgeva e che lanciava un messaggio disconfermante non è la stessa cosa di internet però lo dico per arrivare a quello che dirò tra un attimo perché ci rendiamo conto che internet ha le sue originalità e siamo d'accordo ma riguardo l'effetto specifico che è creare un mondo che sostituisce la realtà anche il mio avo duecento anni fa raccogliendo le affermazioni che gli diceva che non c'era niente da fare era introdotto in questa specie di vicolo cieco ma se oggi sono qua a raccontarvela è perché qualcuno non so chi dei miei avi a un certo punto ha smesso di ubriacarsi perché se avessero continuato io sarei ancora a zappare la terra degli altri su questo non c'è dubbio si vede che a un certo punto qualcuno ha detto non so per quale motivo ha pensato che un'alternativa era possibile e quindi avrà cominciato che ne so a mettere via a risparmiare a costruire magari qualche rete di collaborazione con gli altri e siamo al grande ottocento brecciano dove nessuno deve venire insegnare niente i brecciani se pensate alle realtà cooperativistiche ad esempio siamo in parrocchia una figura come Arcangelo Tadini che era parroco Botticino e lui ha appunto promosso queste realtà solidaristiche che hanno spinto la nostra gente a costruirsi una prospettiva come fece poi Marco Lino nel dopoguerra quando aiutò le persone a farsi le cooperative per farsi le case e se Brescia non è assediata da quei mostri di cemento che si sono in giro è perché questo prete ha detto no facciamo le cooperative e ci mettiamo delle villette bifamiliari con tutti gli uti perché la gente si le possa fare cerchiamo di riprodurre in qualche maniera il tessuto del paese d'accordo se no avremo solo le torri come quelle due che ci tiriamo dietro e che non si sa come fare a risolverle la seconda considerazione quindi che voglio fare è questa è vero che internet ci condiziona su questo non c'è dubbio ma il limite di questo dispositivo qual è? il limite di questo dispositivo è che non introduce nella realtà ma sostituisce la realtà se ci pensate è il limite di tutte le ideologie le ideologie cosa fanno? le ideologie sostituiscono la realtà allora se vogliamo veramente affrontare internet dobbiamo partire da un presupposto e qui mi permetto come dire di interloquire in maniera un po' critica sul suo passaggio non è essenziale esattamente come non sono essenziali mass media con questo non voglio dire che possiamo farne a meno dico che non è essenziale quindi quando vado nelle scuole per esempio mi confronto con quella che viene chiamata media education che appunto l'educazione e mass media dico sempre questo non cominciamo col dire che oggi siamo in un mondo nel quale non si può stare senza perché a quel punto io sono già nella gabbia cioè se io dico che questa cosa non posso farne a meno sono già come il sorcio che è entrato nella gabbia poi potrò come dire girare in questa gabbia correre nella ruota ma sono già nella gabbia io devo porre come prima affermazione che c'è un primato della realtà su ciò che della realtà può essere detto in questo senso non è essenziale nel senso che io introdurrò effettivamente nella gestione di internet e tutto il resto se introdurrò nella realtà e vorrei terminare con un esempio secondo me internet e la virtualità in genere oggi rappresenta una polarità ideologica diversa ma simile come effetto a quello che l'ideologia ha comportato negli anni 50-60 ebbene cosa fece un prete polacco dopo i due anni che l'hanno spedito a Roma a studiare dei Domenicani quando rientrò in Polonia ed erano praticamente gli anni i primi anni 50 e gli dissero cerca di fare della pastorale erano gli anni in cui il comunismo in Polonia era egemone e non soltanto in Polonia perché nei primi anni sembrava che il sistema comunista funzionasse tant'è vero che se voi ricordate furono prima i sovietici a spedire lo Sputnik in orbita non gli americani quindi i primi a conquistare lo spazio non furono gli americani ma furono i sovietici a conferma del fatto che inizialmente sembrava che il sistema funzionasse come dire desse anche l'accesso a delle possibilità tecnologiche eccetera questo giovane prete era caro a voi Tila rientrando in patria dove non poteva fare nulla perché il regime aveva praticamente esautorato la chiesa dall'educazione dei ragazzi come era avvenuto da noi col fascismo eccetera e quindi i preti potevano soltanto di remessa praticamente lui cosa fece? cominciò a raccogliere questi ragazzi per portarli in montagna e quando andavano a fare queste scampagnate l'accordo era che loro dicessero che lui era uno zio perché appunto non poteva come prete fare questo non so se voi ricordate quando venne letto papa che foto vennero pubblicate sui rotocalchi le foto di lui in braghe corte e maglietta non ve le ricordate voi? in canoa e in canotiera eccetera perché? perché volevano far passare l'idea che fosse entrato papa un libertino o un mondano ma se lui girava in braghe corte e in maglietta era perché non poteva girare da prete e poi che invece fosse un prete dall'A alla Z l'abbiamo capito tutti quanti però all'inizio si provò ad affondare pure lui come tutti gli altri allora attenzione quello che lui fece in Polonia cioè dire io devo affrontare l'ideologia in quel caso quella comunista l'ideologia sta sovrapponendo una realtà fittizia sulla realtà vera cosa faccio? io cerco di far incontrare i ragazzi la realtà vera e comincio dalla realtà più vera di tutte che è quella naturale ebbene penso che dobbiamo fare noi qualcosa di analogo noi ci facciamo i conti con un mondo diventato favola il bagno mediatico nel quale siamo costantemente immersi sta praticamente ricostruendo l'immaginario e lo ricostruisce secondo modalità che prima che essere immorali o amorali sono irrealistiche irrealistiche buttate via un euro o due andate a comprarvi un giornaletto per adolescenti e vedrete che i messaggi che vengono lanciati da queste pubblicazioni prima che essere immorali o amorali sono irrealistiche per cui l'adolescente che pensa che amare voglia dire fare queste cose qua e voglia dire provare questi sentimenti dato che essendo normale grazie a Dio queste cose le fa contro voglia e questi sentimenti non è detto che li provi arriverà tragicamente a concludere che non è normale lui mentre ci vuole avere l'adulto che di fianco gli smonta questi messaggi e lo introduce nella realtà narrandogli che cosa ha voluto dire per lui diventare uomo diventare donna conoscere un uomo conoscere una donna fare l'esperienza dell'annamoramento dell'amore mettere al mondo un figlio e ce l'abbiamo davanti e in questo modo noi introduciamo nella realtà certamente nel fare questa operazione siamo molto meno brillanti di nostri competitors come si dice oggi del mondo mediatico ma cosa abbiamo dalla nostra che quello è un mondo di cartapesta mentre noi siamo il mondo vero e quindi se anche siamo stanchi se anche facciamo fatica se anche abbiamo commesso errori e certamente ne commetteremo ancora non lasciamoci sviare da questo ma anzi facciamo leva su questo perché sia ancora più credibile quello che ci andiamo raccontando ecco in questo modo penso che noi possiamo affrontare internet e tutto il resto esattamente come quel giovane prete affronta il comunismo e poi si è visto infatti chi l'ha spuntata nel tuo ultimo passaggio nel terzo passaggio anzi quando parlavi del rapporto tra chiesa e mondo dicevi che alcune cose ora non possiamo più darle per acquisite pensiamo alla stabilità economica la pace o a tante altre cose e poi nei passaggi precedenti facevi in confronto fra resistenza e resilienza ecco io questo direi di fronte al fatto che ognuno di noi fa fronte alla propria complessità del vivere e anche i ragazzi fanno fronte ad alcune difficoltà e se sono sempre meno abituati a affrontare difficoltà si troveranno a vivere situazioni di resistenza e di resilienza però in questo caso faccio un parallelismo e dico noi normalmente di fronte al male ce ne lamentiamo la lamentela è comprensibile perché è la nostra volontà di respingere il male però la lamentela non ha mai risolto nessun problema nel senso che è fine a se stessa una misura in cui non fa un passaggio in più un passaggio saggio che è quello di chiedere aiuto ora in questa fase dove uno chiede aiuto se ci arriva a fare questo passaggio perché se si ferma la lamentela allora sappiamo dove va a finire il problema non si risolve ma quando vuol chiedere aiuto a volte vedo che c'è anche qui una distinzione di questo passaggio che porta un versante a fermarsi alla pretesa e dall'altra parte invece c'è un versante che potrebbe essere quello di aprirsi al dono dell'aiuto come possiamo fare per mettere in risalto il fatto primo che lamentarsi fine a se stesso comprensibile ma una persona saggia va oltre secondo quando però chiedo aiuto e anche qui devo fare attenzione o pretendo o mi apro il dono e qua c'è una bella differenza grazie anche questo è un bello spunto io penso che ci viene in soccorso un richiamo diciamo ormai ricorrente se c'è un richiamo che sta solcando tutta la storia della nostra chiesa degli ultimi 50 anni cioè da quando venne celebrato il concilio è il richiamo della misericordia provate a pensare Papa Giovanni aprì il concilio dicendo che la chiesa voleva utilizzare la medicina della misericordia salto tutti gli altri e arrivo l'attuale che dice appunto che la chiesa deve annunciare alla misericordia e uso un'immagine che è quella dell'ospedale da campo che ha una formidabile somiglianza rispetto a quella di Papa Giovanni perché parlare di medicina della misericordia e di ospedale da campo che cosa postula? è postula che ci si confronta con la malattia perché le medicine le prendono i malati e certamente in ospedale non ci vanno i sani quindi è un richiamo al senso del peccato cioè la misericordia ha un significato soltanto se si presuppone il riconoscimento del peccato allora direi che questo annuncio ha qualcosa di potente non può essere casuale che negli ultimi 50 anni tutti i papi che sono sono succeduti pur così diversi hanno battuto lì tanto per fare un altro esempio Papa Giovanni Paolo II ha consacrato la domenica in Albis cioè la domenica dopo Pasqua alla divina misericordia quindi vuol dire che viene qualcosa di profondo allora credo che il richiamo alla misericordia è anzitutto il richiamo ad avere misericordia verso noi stessi ma perché io devo avere misericordia verso me stesso perché Dio ha avuto misericordia di me cioè ancora una volta l'atteggiamento che mi guida nell'abbracciare una disposizione di un certo tipo è conseguente al fatto che io riconosco che Dio per primo me la ha testimoniato e perché è importante che abbiamo misericordia di me perché l'unico modo che ho per sfuggire alla presa della competizione fateci caso l'elemento che sta esplodendo nel nostro mondo è la competizione ma perché i nostri ragazzi non scelgono più niente perché hanno paura di sbagliare perché fanno fatica a decidersi perché fanno fatica a sposarsi esattamente come fanno fatica a diventare pregio suo perché hanno paura di sbagliare e quindi le decisioni definitive almeno nelle intenzioni non si riescono più a prendere e perché c'è paura di sbagliare ma perché in un mondo competitivo che cosa si deve temere più dell'errore scusate in un mondo competitivo non c'è la seconda opportunità in un mondo competitivo o si è in gioco o si è fuori gioco questa è una situazione devastante sul piano umano perché ci sta bloccando nella paura perché dobbiamo respingere la paura perché la paura è il sentimento dello schiavo noi non siamo liberi per il fatto che possiamo scegliere quello che vogliamo anche perché alle volte può accadere quasi sempre avviene che quello che pensiamo di scegliere noi è stato giacetto da altri certo io vado al supermercato e ho 20 metri di biscotti tra cui scegliere e quindi posso avere l'illusione che sono io a scegliere ma questi 20 metri sono stati scelti da qualcuno rispetto agli n metri ipotetici di biscotti che ci potrebbero essere è molto povera l'idea di libertà come facoltà di scelta tra alternative in realtà io sono libero quando li conosco da avere una dignità e per il fatto che è una dignità non mi faccio vincere dalla paura perché la persona che ha coscienza della sua dignità potrà anche essere sconfitta in quanto i supermercati non esistono ma certamente non verrà mai dominata perché la persona cosciente di avere una dignità avrà sempre la motivazione per cercare riscatto in questa dignità allora ancora una volta il messaggio cristiano che messaggio è? è il messaggio che noi siamo adottati a figli come dice Paolo e quindi essendo adottati a figli di Dio nel figlio che è Gesù Cristo acquisiamo la sua dignità a questo punto a questo punto siamo superiore alla competizione e quindi pur essendo in un mondo competitivo abbiamo ciò che ci permette di levarci al di sopra della competizione senza farci trascinare nella competizione e quindi ci permette anche di considerare che potremmo fallire che potremmo sbagliare senza che questo voglia dire il fallimento d'altronde qual è il cuore dell'annuncio cristiano? che è l'annuncio pasquale e non abbiate paura ma è lo stesso annuncio che fa il rovetto a Mosè quando gli si è vicina gli dice non temere allora è fondamentale che noi ci vediamo del fatto che l'essere cristiani ci aiuta a vincere la paura se noi vinciamo la paura possiamo muoverci anche in un mondo competitivo senza farci assoggettare da questo mondo competitivo e quindi riuscendo a costruire una vita rispetto alla quale abbiamo coscienza che vale di più del fatto che possa essere anche una vita che le sue fragilità a questo punto quando io riconosco che ho bisogno posso avvicinare senza temere di chiedere aiuto perché? perché questo passo lo faccio motivato dal fatto che la mia fragilità esiste ma Dio mi ama come sono essendo quindi fragile perché io possa essere dal suo amore rigenerato e quindi aiutato a sollevarmi quindi penso veramente che la fede sia essenziale anche per alimentare la resilienza altronde qual è l'espressione tipica della spiritualità cristiana che possiamo associare alla resilienza provate a pensarci è una frase dura ma è una frase che quando viene presa sul serio e quando viene praticata può creare dei mutamenti giganteschi è l'invito ad abbracciare la croce l'invito ad abbracciare la croce non ce lo fa Gesù Cristo perché è masochista e quindi desidera che noi soffriamo per il gusto di soffrire ma ce lo fa perché lui nel modo che ha avuto di vivere la croce ha testimoniato che la croce è un evento d'amore e quindi ci invita facendo leva sulla croce come evento d'amore che è durissimo evidentemente ma se Cristo ha sudato sangue negli esemani ci sarà pure una ragione può dire che era dura anche per lui in forza di questo ci invita a non rassegnarci al male ma a vincere con i piedi del male grazie